È tornato il Festival della Firenze dei Bambini, un fine settimana con centinaia di eventi, spettacoli, laboratori dedicati alle famiglie e ai più piccoli, letture di favole nelle principali biblioteche della città, tutto gratuito e la maggior parte senza prenotazione. Qual a mano è lo slogan, proprio per sottolineare la necessità di ricominciare una socializzazione interrotta dalla pandemia. Tra le novità anche la partecipazione di Montedomini con l'incontro con gli anziani e installazioni e laboratori circensi nel giardino. Tra gli eventi più attesi è tornata la possibilità per i bambini di passare la notte in Palazzo Vecchio con sacco a pelo e visita guidata nel Salone dei Cinquecento. Il Festival dei Bambini, la Firenze dei Bambini, torna in grande stile dopo la pausa del Covid che ci ha molto limitato. Ed è bello vedere queste bimbe e questi bimbi sorridenti, divertiti da questi primi appuntamenti. Sarà una tre giorni intensa, fino a domenica, una tre giorni dedicata ai più piccoli nella nostra città, dedicata all'amicizia, alla pace, al gioco e al divertimento. Mi raccomando a tutte le mamme, babbie e nonni, venite a trovarci.